E' stato presentato il Palio Bosino Città di Varese in programma l'8 e il 15 maggio. Saranno due giorni di festa nella tradizione, due domeniche per rivivere la storia e il folclore varesino. La diciassettesima edizione del Palio Bosino ha quest'anno lo slogan La festa è nel cuore di Varese. La famiglia Bosina ha presentato l'evento alla presenza del sindaco Attilio Fontana, illustrando i dettagli del programma, dal gioco della porta al Palio vero e proprio, più tutte le iniziative connesse, organizzato in collaborazione con I Monelli della Motta, la Basilica di San Vittore e l'Accademia Italiana della Costina Quarezza. Il Palio ha il patrocinio del Comune di Varese e domenica 8 maggio è anche la festa di San Vittore, patrono della città. Il Palio si svolgerà tra Piazza Repubblica e l'Ipodromo Le Bettole.